io sinceramente ho anche paura ad aprirli perché sono da assemblare e penso che farò un disastro totale non penso riuscirò mai a montare il robot o meglio a dire vero a montare neanche una singola parte in video perché sono proprio negato e poi comunque sia tengo la webcam tra cioè con la maglietta praticamente quindi trema tutto trema e vabbè il casino qua sopra il caos casino è una brutta parola il caos qua sopra la scrivania è peggio di quello che c'è adesso perché comunque sia ho dato una mezza pulita però io direi sapete che c'è proviamo almeno ad assemblare uno di questi almeno uno di questi giochi quello più semplice tiriamo qui e tiriamo qui piano piano perché la scatola è bella la voglio conservare no ragazzi no va male va troppo male non sono buono per queste cose no aspetta ah il gioco toycon 01 ok sobrio e vai le macchine che passano là fuori praticamente bisogna prendere il software a parte vabbè devo aprirlo perché tanto ci dovrò giocare prima o poi no eccolo qua e poi che faccio avvialo a che sto giocando? a mario odyssey e beh si poi vediamo un po' mettiamo il giochino bello bellino dovrei aggiustare il focus ma no ah no però sto giocando a kirby ah no sto qui ok allora niente posso fare più che altro mi dispiace perdere gli amici che ho aspetta kit kit s perché culo è giustamente labo iniziamo con monta hey hey ok e facciamo un po' di pratica cos 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 eh ciao sei nintendo labo ehm ok tieni premuto avanti per riprodurre il video così si monta il supporto per il joycon togli solo questo pezzo del foglio a quale foglio ah eccolo eccolo ho trovato sottile sottile debole no c'ho paura io non sono delicato io posso fare il ginecologo allora che devo togliere no ci sono riuscito grande grande andrelink bravo ottimo lavoro conserva e foglio a con cura ok lo rimetto dentro la scatola allora mentre monti il toycon è meglio se tieni la console in carica col diavolo questi due pezzettini questi due pezzettini qui giusto quello sopra cos'è ehm si per praticamente per ok scusatemi eh io devo essere bravo preciso ok piega per bene senza rompere vai bravo andrelink così si fa ehm andiamoci da fare ah ok 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 ah ah si no quale questa ehm si questa ehm si questa ehm ok fatto così so magari che il video sta venendo male ragazzi però io ho davvero paura perché sono non riesco a essere delicato con noi col cartoncino noi col cartoncino stiamo scherzando eccolo qua si bene ci sto riuscendo bravo andrelink e poi qua andrebbe così ahhh eccolo praticamente sta così ma come come diavolo l'ha messo così eccola qua eccola qua messa nell'apertura vai sono bravo vero eccolo yeah il supporto per joycon è finito ihi ora quel che serve il joycon è il joycon R perché si chiama R questo perché right destra ha portato di mano assicurati di inserire il joycon fino in fondo riesci a vedere il pulsante attraverso il buco sul retro eh quale pulsante emm si si ci riesco ok provo sul serio ooooo non è che trema qua succede un casino scocchia tutto monta 10 minuti 90 150 mamma mia quanto ci vuole a montare certa roba iniziamo con la macchinina CR no? RC la macchinina e l'antennina prendi questi due pezzi dal foglio A qual è il foglio A? il foglio A? avvio lo stesso tra il foglio A? e il foglio A? il foglio A? l'antennino posso vedere E' entrato tutto per bene? Sì! Tapa... e tapa! Wow, l'antenna era più difficile! Sistema l'antenna sulla console? Fammi indovinare, già posso immaginare come andrà messa. Eh, potevo farlo fin dall'inizio, così sarebbe stato molto più comodo. Si parte praticamente da qua su, si scende, va un po' duretto eh! E si infila fino in fondo, vediamo un po'... Sì! Fatto! Ma che bella macchinina! Bene, ora che è montata! Giochiamo! Mio Dio! Dai, almeno una l'ho fatta, dai! Quando giochi con la macchinina, usala su una superficie piatta e liscia. Aspetta però! Qua è un po' ballerino questo! PORCA MISERIA! Lo so, sembra una cosa stupida, ma è troppo divertente! Mamma mia! No, dai! Ah, questo non giova per niente! Eccolo qua! Ma dai! No ragazzi, voi non avete idea! È una cosa stupida, ma è divertentissima! Oh, mamma mia! Ti ho ottenuto d'occhio, Andrelink! Stai montando gli accessori Toycon, vero? E ci giochi pure! Sei una spia? Non mi avrai mai! Ovviamente ho messo Samu Saran, perché Samu Saran... Oh, non hai nulla da temere, te lo assicuro! Ma andiamo con ordine, Andrelink! Ti trovi all'interno della sezione Scopri del gioco! E una piccola richiesta da farti! Che cosa? Anche se in realtà avrai da fare! Vedo un grande potenziale in te! È la genialità dei più brillanti inventori! Per cui Andrelink, lascia che ti introduca nella nostra organizzazione semisegreta! Così semisegreta?! Spero che questo video un po' diverso dal solito vi sia piaciuto, volevo portarlo giusto... Almeno il primo... Il primo... Almeno il primo Toycon lo volevo portare sul canale! Poi gli altri magari vi farò vedere una volta montati mentre ci gioco! Perché, come ho detto, portarli in questa maniera sarebbe impossibile! E... Dovrei... Sì, potrei portarli in una maniera più decente! Però il tre piedi si è rotto! La webcam ho solo questa! Che sto tenendo dentro la maglietta per riuscire a prendere bene l'immagine! È un po' complicata la cosa! All'ogni modo, io come sempre vi ringrazio! Spero che vi sia piaciuto! In descrizione, come sempre, link per Twitter e anche per Instagram! E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi! Ci vediamo, come sempre, domani con un nuovo video! Bye bye!